Continua la scia di risultati negativi per l'Olimpia agnonese. I tre punti ancora non arrivano dopo cinque gare disputate. L'ultima contro il fanalino di coda Celano che con il bottino pieno è salito lasciando la zona rossa della classifica, le due molisane Agnone e Termoli più la Vispesaro sconfitta la scorsa settimana dal Campobasso. Insomma una stagione iniziata male per Donatelli e Di Suoi, una stagione dove il gioco c'è come anche la squadra ma i punti no ed un bel gioco senza bottino a fine gara purtroppo non serve a scalare la classifica. Dalla società comunque continuano ad arrivare segnali positivi e fiducia nel tecnico che si sta trovando di fronte ad un momento di difficoltà a causa anche dei numerosi infortuni e si sa con una rossa non al 100% non si va lontano. Domani però nella gara interna contro il Fano il tecnico Granata dovrebbe ritrovare Carpentino che in settimana si è allenato con la squadra e segnali incoraggianti arrivano anche per quanto riguarda Lisi e Lucarino. L'unico assente Gesuele per l'attaccante ci sarà uno stop molto lungo per via di un probabile intervento al ginocchio che lo porterebbe ad un recupero che potrebbe durare l'intera stagione. Non a caso la società è sul mercato per trovare un degno sostituto. La ricerca è difficile e se non impossibile a stagione iniziata. Petrone comunque buona forma fisica come fatto già vedere contro il Celano e di sicuro sarà a disposizione del mister. L'undici titolare che scenderà in campo al Civitelle contro il Fano probabilmente non subirà particolari variazioni rispetto a quello della scorsa settimana con Fescio tra i pali. I quattro di difesa saranno Natalini, Litterio, Lattarule e Carpentino. A centro campo Dilullo è ricamato centrali sulle fasce Paiuca e Maresca in attacco unica punta Petrone con alle spalle Saltarin. A dirigere Olimpia agnonese Celano il signor Federico Parialola di Terni.